Queste sono io che sto prendendo le pietre e le metto. Queste sono pietre del fiume Ombrone, di Pistoia c'è questo fiume che si chiama Ombrone e allora si poteva andare, cioè c'erano questi camion che potevano entrare nel fiume e prendere queste, si chiamano pillole, che prima ci facevano dei muri, ora è poivito. Io ne ho fatte di queste clessidre, cioè ho l'ossessione del tempo, per fermare il tempo e ne ho fatte diverse e sono questi pesi, capito, che è impossibile rovesciarla, ecco perché andiamo per fermare il tempo. Il tempo, cioè la natura, cioè dagli animali, dalle piante che ho intorno, ecco riesco proprio a capire queste... cioè in città uno non se ne rende conto, voglio dire delle piante, degli animali, cioè tutte queste cose che si svolgono, cioè proprio in tempi precisi. Io cerco appunto, su questa fissazione, di fermarlo il tempo, però ancora non ci sono riuscito.